Intanto loro avevano 10 milioni di euro in più e quei 10 milioni si sono dispersi nei rivoli dovuti al litigio tra la Lega e gli altri assessori. Alla fine la Lega ha avuto di fatto, soltanto è rimasto con un palmo di naso perché in realtà quelle modifiche di giunta sono peraltro illegittime e addirittura noi stiamo chiedendo che venga presto modificato il bilancio della Regione perché è scritto addirittura a mano rispetto a delle iniziative che non si sono verificate perché vogliono finanziare dei progetti di legge e questo è illegittimo, con la legge di finanza del bilancio della Regione si possono finanziare esclusivamente le leggi già esistenti e non dei progetti di legge e in tutto questo si disperdono quelle che sono quelle risorse che pure vengono da un risanamento passato. Si doveva invece bersagliare, avere degli obiettivi migliori a portata di mano con quelle risorse in più e che avrebbero potuto riguardare la viabilità per i piccoli comuni, la questione del lavoro, la questione dell'erosione della costa tutte questioni che con la nostra proposta e i nostri emendamenti porteremo avanti sperando ovviamente che la maggioranza possa raccoglierli e accoglierli.